Bisogna guardarli negli occhi, Luca, perché quelli siamo noi. Dai primi passi dei primi ominidi nelle pianure africane fino alla produzione di pitture rupestri, di cattedrali, di monumenti, di parlamenti. Molto è stato scritto sul cammino evolutivo dell'umanità. È stato grazie al lavoro dei paleontologi, degli archeologi e dei genetisti. Ma oggi abbiamo fatto un passo in più, perché grazie alla capacità di leggere a fondo il DNA di tante persone diverse, del presente e del passato, oggi possiamo attribuire anche un aspetto a queste persone, vedere com'erano fatti. E allora possiamo guardare negli occhi tanti nostri antenati, da Homo erectus, il primo che ha imparato a usare il fuoco, alle piccole creature dell'isola di Flores in Indonesia, che qualcuno ha proposto di chiamare Hobbit. E ci sono i vecchi europei, gli uomini di Neandertal, ma anche quelli nuovi, come Erzzi, l'uomo dei ghiacci del museo di Bolzano. E così, guardandoli negli occhi, forse potremo capire meglio che nonostante tanti anni, migliaia o milioni di anni ci separino da loro nel tempo, in un certo senso, noi siamo loro. Grazie.